50 anni di Onda Italia, industria che insieme a Sevel rende il polo industriale della Val di Sangro Automotive più importante del centro-sud. La Will ha voluto fare il punto su quello che sarà il futuro del settore metalmeccanico in Abruzzo. Sono arrivati Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Will, Rocco Palombella, segretario nazionale Willm e Michele Lombardo, segretario generale Will Abruzzo. Pierpaolo Bombardieri torna in Abruzzo a distanza di pochi mesi, è venuto in Sevel ed ora alla Onda in occasione dei 50 anni. Per ribadire che cosa che questa realtà va mantenuta, questa Val di Sangro, questo settore metalmeccanico? Sì, per ribadire intanto l'attenzione della nostra organizzazione a questo settore, a questo territorio, per tutto quello che riguarda le produzioni che ci sono e che sono anche punte d'eccellenza rispetto al settore del quale stiamo parlando. E che c'è un'azienda che riesce a coniugare innovazione, ricerca e investimenti con salvaguardia dell'occupazione e rilancio del territorio. Quale futuro? Cosa si dice dei tavoli romani ai quali fa parte? Ma stiamo ancora cercando di definirli. Molti alberi sono stati tagliati per costruire questi tavoli. Aspettiamo fatti concreti, aspettiamo ancora risposte su grandi temi che sono oggetto delle riforme per il futuro. Aspettiamo risposte sugli ammortizzatori sociali, sulle politiche attive del lavoro, sulla riforma fiscale, sulla scelta che farà il governo sulle pensioni. Sono tutti temi che dovranno essere affrontati, decisi in questo periodo e che saranno oggetto anche della grande manifestazione di sabato. Ovviamente si parla anche di delocalizzazioni. Molte aziende si spostano dalle nostre parti, dal nostro paese, verso i paesi dell'est perché ci sono situazioni che ovviamente vanno rimosse. Una di queste è quella di dotare i paesi che ancora oggi non ce l'hanno di contratti nazionali che siano in grado di tutelare i lavoratori e di dare salari dignitosi. Questo avviene nei nostri paesi attraverso i contratti nazionali, negli altri paesi c'è solo il salario minimo e spesso le aziende si spostano perché l'unico costo che cercano di ridurre è quello del lavoro e dei lavoratori. Rocco Palombella, Val di Sangro, ci sono aziende che festeggiano 50 anni, aziende in crisi in questa stessa realtà. Quanto conta questa Val di Sangro? La Val di Sangro è una realtà molto importante. Ci sono circa 20.000 metalmeccanici. È una realtà industriale importante, è una realtà che dà al territorio ma contribuisce anche ad elevare il pilo italiano perché ci sono aziende multinazionali che ormai è l'esempio di Honda 50 anni ma ci sono realtà come Stellantis e altre aziende che rappresentano anche la strategicità di un paese perché sono settori strategici e sono anche ad esempio su come c'è una differenza tra multinazionali e multinazionali. Multinazionali gestiti da fondi che hanno solo lo scopo di sfruttare il territorio e guardare esclusivamente la finanza e ci sono realtà invece che sono presenti da 50 anni nonostante tutte le difficoltà che il mercato, che le situazioni storiche si sono determinate. E quindi noi non dobbiamo demonizzare le multinazionali. Noi dobbiamo fare in modo che le multinazionali gestite da fondi abbiano delle regole ben precise, ferre, non possono sfruttare il territorio, non possono sfruttare le professionalità italiane e andare via. Quindi il tema è non demonizzare ma fare in modo che il governo si doti di leggi particolari e valgono per tutti, valgono per le aziende italiane ma soprattutto valgono anche per le aziende estere. Grazie.